Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi domenica 9 aprile. Intanto una buona domenica a tutti quanti voi. Sui giornali ci sono un po' di storie che vanno avanti, la Svezia che va avanti, Igor il russo che va avanti, la cosa che però più mi diverte sono i risoconti sull'incontro fatto da Casaleggio e Associati, cioè dal Movimento 5 Stelle ieri a Ivrea. La prima considerazione da fare leggendo i risoconti è che si tratta di una manifestazione con i canoni tipici di una manifestazione, non so, della democrazia cristiana, del partito socialista, del partito repubblicano, cioè si sta su un palco evocativo, quella delle Olivetti, perché Olivetti è il mito del lavoro sano, non del lavoro e anche perché ha una lontana parentela ideale con Casaleggio e poi c'è una platea, tutti giacca e cravatta, ci sono due o tre giornalisti che contano, perché è ovvio che i giornalisti servono sempre, ci sono due o tre imprenditori, c'è la cena nel castello di uno di questi imprenditori, ci sono alcuni che invece sono lì per sentire e ascoltare genuinamente e poi soprattutto, come nota oggi il fatto quotidiano, non c'è il wifi, insomma sempre di stare a una riunione di casini, ma un po' meno organizzata, cioè nel mondo di Rousseau, nel mondo degli algoritmi, nel mondo del digitale, nel mondo che ci ha spiegato Casaleggio, per cui non esiste più la vita reale, ma esiste soltanto la macchina che ci spiega dove dobbiamo andare, beh insomma non c'è il wifi, quindi io non potevo fare una diretta wifi se fossi stato là su Facebook come avrei voluto fare io, beh insomma è semplicemente uno degli aspetti un po' ridicoli come sempre avviene in queste manifestazioni di sinistra, di destra e di centro che è stata messa in discussione dal fatto quotidiano, ma non è questo il punto fondamentale, il punto fondamentale è anche gli ospiti che ci sono, per capire il movimento più votato dagli italiani, perché questa è una realtà, il Movimento 5 Stelle rappresenta almeno il 30% di italiani, un italiano su 3 vota il Movimento 5 Stelle e come tale bisogna rispettare questo movimento politico, questo non vuol dire contrastarlo, io penso che non rispettare il voto degli italiani, qualsiasi essi siano, insomma è una cosa ridicola, pensate un po' voi quanto io rispetto quelli che non vogliono la tappa, quelli che pensano le scechimiche o che non vogliono i vaccini, insomma li contrasto in tutti i modi, ma bisogna rispettarli. Allora bisogna vedere chi c'era questo movimento, intanto l'organizzatore degli imprenditori seduto, si vede nelle foto accanto a Grillo, è Arturo Artom, insomma uno che le ha provate con tutti a fare politica, oggi lo descrive il giornale, mi sembra un pezzo di Bracalini, ma mi ricordo che Arturo Artom, che io conosco peraltro, un simpatico ragazzo che ha provato in tutti i modi a emergere, Arturo Artom, sarà anche una persona molto perbene, però è stato descritto in maniera pazzesca, come sanno fare solo loro, con una cattiveria incredibile, proprio dal Fatto Quotidiano che lo ha descritto con una specie di arrivista, con i bilanci sempre in rosso, qualche mese fa, Fatto Quotidiano che diciamo è il giornale di partito del Movimento 5 Stelle, su questo penso che sia del tutto chiaro, e quindi una piccola contraddizione la vedo anche in questo, cioè l'uomo a cui voi non avreste affidato, anzi avete affidato una pagina al vetriolo che oggi sta accanto a Beppe Grillo. Ma l'altra cosa che mi sembra più sostanziale è un po' la contraddizione per esempio di far salire sul palco il signor Vaccarono, che è l'amministratore delegato di Google Italia, voi direte che gli amministratori delegati italiani delle grandi multinazionali non contano nulla, però è un simbolo, cioè è il simbolo di Google Italia, la stessa identica e qui ci sta la rete e la condivisione, ma tra gli invitati c'era Francesco Greco, il giudice che insieme a Nespoli hanno deciso alla fine di non venire, su Nespoli Nuzio ha fatto una ridicola polemica, ma quello noi giornalisti ne facciamo una ogni giorno, ma su Francesco Greco non c'è stata polemica perché lui ha semplicemente detto non ci vengo, non pensavo che fosse una manifestazione politica, ma qual è il punto per la quale insisto su Francesco Greco? Insisto su Francesco Greco per un punto molto semplice, perché Francesco Greco è quel signore che è andato in commissione parlamentare un paio di giorni fa dicendo che Google e Facebook non pagano le tasse in Italia e che sono indagati da lui proprio per questo motivo, un po' come lo è stato Apple che alla fine ha pagato 300 milioni di euro, 300 milioni di euro come tasse non pagate e questo poi dopo è sostanziato dal fatto che in Italia 1,7 miliardi di euro di pubblicità sono fatti attraverso la rete, mentre Facebook e Google in Italia fatturano poche centinaia di milioni, anzi neanche ci arrivano. Insomma dice Francesco Greco come è possibile che questi fatturino così poco in Italia ma raccolgono così tanta di pubblicità in Italia? Come è possibile? Allora come è possibile che sullo stesso palco può convivere Francesco Greco e Vaccarono? Vi sembra normale che ci sia indagato e magistrato sullo stesso palco? Lo chiedo a Marco Travaglio, lo chiedo a quelli del Fatto Quotidiano che hanno tanta passione per il momento 5 stelle e per Davide Casaleggio, insomma come è possibile che stiano insieme? Io penso che forse queste grandi multinazionali, un po' di tasse in più come lo facciamo noi, dovrebbero pagarle. Paragone, me lo dà Paragone nella sua pezzo sul Libero, dice quanti rosiconi sul raduno del Movimento 5 stelle, quanti rosiconi? Ha parlato uno che è proprio nel suo DNA rosicare. Etichettare chi ci va, dice è sbagliato etichettare chi ci va, su questo però Paragone ha ragione, non si può etichettare chi va a un raduno, il problema non è etichettare su un raduno di Forza Italia, il valutuno della sinistra eccetera e Paragone ha anche buon gioco a dire tutti quelli che sono andati ai congressi del PC, del Partito Socialista, dei movimenti di sinistra, quelli non li abbiamo mai etichettati e c'è ragione su questo, ma il problema non è caro Gianluigi etichettare chi va alle assemblee del Movimento 5 stelle, è vedere etichettare chi viene invitato, cioè chi hanno invitato il Movimento 5 stelle, cioè nel pantheon degli invitati ci stanno quelli che il Movimento 5 stelle chiaramente considerano per loro in linea con la loro linea, diciamo di no casta, no vaccini, sì sciacce chimiche, sì no tap, insomma questa roba qua è che non c'è nulla di sbagliato, ma è evidente che è più facile che a me mi invitino in un congresso del centrodestra che a un congresso del centro-sinistra, è evidente, e lì il problema è che chi invita il Movimento 5 stelle sono persone che loro considerano potabili per la loro immagine, quindi il problema non è etichettare chi ci va, è etichettare chi viene invitato, detto questo ognuno facesse come gli pare, non mi sembra un grande scandalo andare alle manifestazioni politiche simili a quelle della Prima Repubblica fatte da Davide Casaleggio. L'accoglienza a un limite, dice in un'intervista oggi minita al Corriere della Sera, dice che ha fatto 31 espulsioni, ecco il Ministero degli Interni gestito da Miniti mi sembra una cosa un po' diversa rispetto a quella che era gestito da Alfano, preso Nuzbeko a Stoccolma e questa è la storia che riguarda la Svezia di ieri, ma la cosa incredibile è che questo era conosciuto alle forze dell'ordine, aveva postato un video sull'Isis, insomma era conosciuto, Enzo Guolo molto bene scrive oggi su Repubblica che l'integrazione non ci difende dall'interterrorismo, anzi secondo me se uno evita di pensare e di arrestare e di espellere come sta facendo Miniti le persone che sono filo Isis, questa integrazione non solo non ci difende dal terrorismo ma ci aiuta nel terrorismo. Vi segnalo e lo segnalo a quelle centinaia di star che non hanno un cazzo da fare se non svegliarsi e fare questi cartelli la mattina che anche loro hanno un bambino, a queste centinaia di star che il fondamentalista islamico che è Uzbeko che ha ucciso quattro persone in Svezia ne ha uccisa una bambina, una su quattro, quindi il loro cacchio di cartello che è rivolto ad Assad che è un massacratore perché hanno visto quattro foto che gli hanno colpiti al cuore questi nostri star, ecco queste nostre star dovrebbero fare la stessa cosa per tutte le vittime bambine dei fondamentalisti islamici, chissà perché non si svegliano mai quando un quarto delle vittime di bambini viene fatto da un fondamentalista islamico per la quale le stesse star si sono svegliate la notte per chiedere maggiore integrazione, ma andassero a dormire, bravo, ridicole, ridicole. Beh, stupenda oggi, io non sapete che ne ho una fissazione, una paginata intera della Spinelli, se volete addormentarvi di prima mattina, avete dei problemi di insonnia, avete dei problemi anche fisici nel trovare qualcuno che vi dia uno stimolo alla cattiveria, alla noia, al disgusto, leggetevi Barbara Spinelli, oggi, il potere europeo che assedia i diritti e le costituzioni, un pezzo incomprensibile che ha come sempre il solo merito di essere scritto da una che viene considerata la figlia di uno che aveva demeriti. Quindi piccola annotazione per... e poi l'altra cosa che mi diverte è sul Sole 24 ore di oggi, primo via libera della UE alla manovra di Paduan, questo è il titolo, ma mi chiedo io, siccome la devono approvare la settimana prossima i nostri parlamentari, la devono vedere la prossima settimana i nostri parlamentari, ma magari ce la fate sapere anche a noi qual è questa manovra europea? Cioè, questa manovra italiana che vi entreranno nelle nostre tasche e per cui avete già avuto l'accordo alla Valletta, Malta, con gli altri leader europei? No, non lo so, funziona così, no? Poi uno dice ci sono i sovranisti, no, non è che ci sono i sovranisti, ci sono quelli che dicono, siccome le tasse voi le pago io, e siccome abbiamo ancora una Costituzione che fa schifo, non è la più bella del mondo, ma quella Costituzione prevede ancora che le tasse le paghi io in funzione del mio reddito e delle mie... beh, magari ce la dite voi cos'è sta manovra prima di spiegarla a sti cazzo di europei? No, non lo so, uno gli può venire in mente questa logica? Non è che ce l'ho contro i titoli dei giornali italiani, ce l'ho contro l'atteggiamento ormai incredibilmente allucinante per cui tu prima spieghi la manovra agli europei e poi arrivi in Italia, poi ti chiedi perché votano Movimento 5 Stelle, non votano Movimento 5 Stelle o votano Salvini perché sono convinti al 100% dei loro programmi, ma perché l'idea che un tecnocrata europeo vada a spiegare una manovra prima alla Valletta che ai cittadini che la devono pagare, ti fa venire il sangue al cervello, non vuol dire essere del Movimento 5 Stelle questo, non vuol dire essere no tap questo, non vuol dire essere sovranisti questo, vuol dire semplicemente rispettare una regola liberale per cui le tasse le pagano gli individui con il sacrificio del loro lavoro e quindi il sacrificio del loro lavoro non viene deciso a Bruxelles o la Valletta, viene deciso dai politici che sono eletti, si spera, dai cittadini italiani A, B, C della democrazia liberale. Vabbè, buona domenica a tutti e vi do appuntamento come sempre, a domani con la zuppa di porro. Ciao!